Siamo stati scelti come uno dei centri che si occupa di scompenso in Italia anche perché abbiamo nella nostra struttura diverse attività in questo settore sia l'ambulatorio per lo scompenso, poi abbiamo il dei ospite per lo scompenso poi abbiamo una chicca che praticamente abbiamo solo noi in tutta la Puglia quella della ospedalizzazione domiciliare cioè i pazienti con questa sindrome stanno qui un certo numero di giorni poi se non recuperano completamente vengono mandati a casa e noi mandiamo ogni giorno a domicilio sia il medico sia un infermiere per fare i prelievi e per fare la terapia molto spesso endovenosa è un'attività che abbiamo iniziato molti anni fa e siamo gli unici in Puglia possiamo affermare che ancora la facciamo e speriamo di poterla continuare Questa quattro giorni praticamente che consiste? Il cittadino, l'utente si può avvicinare? Certo, è invitato ad avvicinarsi a dei bacchetti informativi che saranno collocati negli ingressi principali dei padiglioni dell'ospedale martedì 3 maggio dalle 10 alle 13 mentre mercoledì pomeriggio sono tutti invitati alla struttura alla scuola di atletica del CONI per un evento sportivo sono dei gruppi di cammino che noi realizzeremo con la struttura di medicina sportiva del nostro ospedale venerdì c'è un open day dell'ambulatorio dello scompenso dove distribuiremo materiale lasciato per la società europea di cardiologia al fine di poter prevenire questa sindrome dello scompenso cardiaco e sabato a Piazza Giordano ci sarà un camper medico attrezzato grazie al contributo dell'associazione di malati con scompenso cardiaco grazie a tutti